24esima bandiera blu conquistata dal comune di Tortoreto che si freggia per l'ennesima volta di questo alto riconoscimento insieme a tutti gli altri vista la mole enorme di riconoscimenti attestati di stima che ottiene da un po' di anni anzi da molti anni a questa parte quindi viva il turismo viva la cultura a Tortoreto città che può andare orgogliosa di tutti i suoi riconoscimenti Signor Sindaco di Tortoreto Domenico Piccioni buonasera e complimenti anche quest'anno si riconferma questo grande traguardo turistico Sì eccezionale è stato per noi un evento eccezionale come dicevo perché 24 volte e poi su tutto il nostro litorale il nostro mare dal convine con Alba a Giulianova al Fiume Saninello è tutta bandiera blu Anche se quest'anno è un anno particolare con questo coronavirus però dobbiamo ringraziare i balneatori e gli albergatori di Tortoreto che si sono veramente immedesimati in questa situazione stanno rendendo la stagione molto molto bella per i nostri visitatori per i nostri turisti Ovviamente la mascherina che sta indossando è a tema quella della bandiera blu 2020 quindi bandiera blu 2020 complimenti anche perché in quanto a turismo Tortoreto è una delle città imbattibili diciamolo Diciamo di sì negli ultimi cinque anni il comune di Tortoreto ha le maggiori presenze per tutta la provincia di Teramo siamo superiori a Giulianova, a Roseto che sono cittadini, doppio di residenti di Tortoreto anche come grandezze, come ricettività alberghiera Siamo felici per dire che quello che stiamo facendo, il lavoro che stiamo portando avanti come amministrazione e con tutta la cittadinanza perché ripeto la bandiera blu non è solo acqua ma è tutto è la cura del verde, la raccolta differenziata, i servizi, i lidi che sono al 100% in regola, gli albergatori, insomma è tutto un lavoro, una sinergia di tutti i cittadini di Tortoreto Grazie a tutti Questo è quello che tu sei E' un lavoro di squadra che porta a questo risultato perché impegna sicuramente anche i cittadini ed operatori ed il nostro ufficio ambiente che voglio ringraziare nel personale, nel responsabile e nel consigliere delegato Maurizio Branciaroli perché i valori ambientali di Tortoreto sono sempre ogni anno migliori e questo per noi è importante anche dal punto di vista turistico. Purtroppo forse anche quest'anno particolare ci ha permesso di capire anche quanto è importante vivere in un ambiente salubre, in un ambiente sicuro, con una qualità della vita alta e quindi anche dal punto di vista turistico per noi è importantissimo avere un ambiente di questo tipo e degli standard sempre elevati e quindi siamo veramente in un clima di grande festa, ritrovarci qui ogni anno è per noi un grande onore. Speriamo di proseguire su questo percorso e di poter mantenere come dicevo un altissimo livello qualitativo. E sì perché come ci spiegava poc'anzi anche il sindaco qui non si tratta solo del mare, del bel mare, il mare pulito, il mare che accoglie ma di tanto altro contorno. Assolutamente una serie di servizi, servizi spiaggia, accessibilità delle spiagge anche per i diversamente abili o comunque per tutti, ma poi parliamo naturalmente di raccolta differenziata, di una serie di valori, non solo qualità delle acque che pure a Tortoreto sono eccellenti ogni anno in ogni punto di prelievo e quindi ci permettono di avere per tutto il litorale anche la bandiera blu perché questo è un aspetto importante. Avere la qualità delle acque eccellente in tutti i punti di prelievo ci permette di poter dire che a Tortoreto tutto il litorale è bandiera blu, ma poi come dicevamo tutta un'altra serie di valori che non dobbiamo dimenticare e che i nostri turisti apprezzano però moltissimo perché ormai contano su questo aspetto a Tortoreto. E altre bandiere sventolano alte nel cielo di Tortoreto, la bandiera verde pediatrica e quest'anno la terza bandiera gialla comune ciclabile. Sì, è il terzo anno che riceviamo la bandiera gialla dei comuni ciclabili FIAB e abbiamo avviato anche con l'assessore alla viabilità e lo spazio pubblico bene comune Arianna del Sordo il percorso per dotarci di un biciplan che è un vero e proprio piano di viabilità ciclabile quindi permetterà anche lì di elevare la qualità della vita di Tortoreto anche a beneficio dei ciclisti. E' la terza bandiera gialla, come dicevamo abbiamo ricevuto anche la nostra quinta bandiera verde pediatrica Piaggia adatta ai bambini e d'altronde Tortoreto ha nel Target Family ormai una nomea che noi stiamo cercando di implementare sempre di più, è la località turistica per bambini d'eccellenza e quindi anche noi con il nostro programma di manifestazioni, di servizi e quant'altro, di concerto con gli operatori turistici, facciamo sempre in modo che Tortoreto sia la città ideale per i bambini. Una città che accoglie i bambini insieme a tutta la loro famiglia, quindi baby friendly, io direi anche family friendly, appunto voi avete questo pacchetto rivolto all'intera famiglia, tante attività, tanti eventi, attività divertenti come anche quella di questa sera perché ci si diverte anche a guardare una cerimonia di premiazione e poi ci sarà il concerto a seguire, la tribute band di White. Indubbiamente è un'occasione di divertimento un po' per tutti ma certamente questa riguarda un po' più gli adulti, le altre serate comunque vanno un po' ad incontrare i gusti di tutti, peraltro quest'anno compatibilmente con quelle che sono le misure di sicurezza ed anche i generi musicali che si prestano ad essere ascoltati da seduti perché purtroppo anche questo quest'anno abbiamo dovuto considerare, ma abbiamo tante serate per i bambini, abbiamo avuto già il mago e poi abbiamo un appuntamento settimanale con i giochi di legno di Ludobus e Logi Cup e quindi una serie di attività anche con il Covid, con le massime misure di sicurezza che ci permettono di far giocare i nostri bambini, di farli divertire e fare in modo che la loro vacanza a Tortoreto sia gioiosa e giocosa. Non peraltro abbiamo lanciato anche il nostro video promozionale sulle note della notte rosa che purtroppo quest'anno per evidenti motivi non abbiamo potuto replicare perché altrimenti l'avremmo snaturata, l'avremmo resa completamente diversa laddove invece il momento sociale e il vero e proprio assembramento è anche una parte di divertimento per i bambini. Abbiamo fatto questo video proprio cantato e recitato da bambini che ricordava a tutti i nostri gentili ospiti che a Tortoreto nonostante l'emergenza sanitaria ci si diverte in sicurezza e quindi i bambini e le loro famiglie sono sempre ben accolte a Tortoreto. Insomma questo è importante anche perché oltre alle bellezze naturalistiche, al buon cibo, agli stabilimenti balneari che si impegnano e tutti quanti sono verso una linea comune è importantissimo quello che appunto fate per attirare i turisti e nonostante questo Covid-19 insomma le presenze ci sono? Sì indubbiamente giugno è stato un mese un po' più difficoltoso perché evidentemente eravamo appena usciti dall'emergenza sanitaria nella sua fase più dura e più grave. Abbiamo comunque avuto un buon numero di presenze che hanno superato il 40% di quelle del giugno 2019 che indubbiamente dimostrano la difficoltà però sono migliori delle previsioni che avevamo. Luglio ci sta dando ottimi numeri e confidiamo ovviamente come sempre in agosto. Direi che le presenze a Tortoreto si possono contare anche dal numero di parcheggi occupati e dalle persone in spiaggia e quindi continueremo sicuramente a monitorare i numeri registrati anche grazie ai software del comune ma naturalmente sarà un'estate difficoltosa per tutti questo ce ne rendiamo conto ma forse meno tragica di quello che prevedevamo. Indubbiamente abbiamo fatto anche molto per promuovere la località di concerto con operatori privati e turistici e ricettivi abbiamo fatto quanto possibile per ricordare ai nostri turisti e a nuovi turisti che potevano venire a Tortoreto. Ad esempio con la campagna social fatta da ambassador influencers chiamata Back to Tortoreto. Abbiamo cercato di mettere in campo quanto possibile per cercare di arginare la difficoltà che indubbiamente ci sarà ma che stiamo cercando di ridurre al minimo perché Tortoreto è una località turistica e anche al di là dell'aspetto economico ha una vocazione all'accoglienza che non possiamo tralasciare quest'anno perché per noi l'estate è fatta dei nostri ospiti, dei nostri turisti e non possiamo concepire un'estate con una Tortoreto vuota. Tante belle iniziative per una vacanza indimenticabile, un soggiorno fantastico. Ce l'auguriamo e facciamo il massimo affinché sia così. Grazie Assessore, buon lavoro. Grazie a voi, buonasera. Sono con il comandante della Capitaneria di Porto di Giulia Nova, il tenente di Vacello Claudio Bernetti. Complimenti perché anche voi in questa serata dedicata alla bandiera blu a Tortoreto avete messo lo zampino, nel senso che anche voi vi occupate di tutela dell'ambiente. Concorriamo con un'attività di vigilanza e polizia marittima, taglio ambientale e cerchiamo di apportare un nostro contributo nel mantenimento di un livello alto della qualità delle acque anche perché è importante comprendere, e questo devo dire che tutte le amministrazioni comunali, ma in particolare quella tortoretana, che la qualità delle acque inizia a monte, quindi con la qualità dei suoi affluenti, dei fiumi che vi arrivano. E quindi l'attività che è quella che conduciamo nel quotidiano, guardia costiera, non è altro che diretta, volta a individuare e reprimere eventuali scarichi non autorizzati o scarichi che superino limiti consentiti, che sono acque non altro inquinanti che poi giungono a mare e rendono non balneabili o scarsamente balneabili le acque della nostra costa. Un ruolo importante dunque è quello della Capitaneria di Porto e un tassello in più a proteggere l'ambiente. La difesa dell'ambiente è una causa comune, quindi ovviamente noi con funzioni di polizia siamo primi tra pari perché l'impegno parte dal cittadino che come ci piace sostenere è la prima guardia costiera sul territorio, continua con l'impegno delle amministrazioni, delle amministrazioni comunali, provinciali, gli stessi operatori del settore, gli operatori della pesca e balneatori, quindi diciamo che è una squadra quella che si muove e che opera per tutelare le nostre acque e la loro qualità. Anche un bel messaggio a tutti i cittadini quello di contribuire perché ognuno di noi può e deve fare qualcosa. Assolutamente perché la qualità delle acque è frutto di un comportamento corretto di ognuno di noi, quindi del cittadino, del bagnante, del diportista, del pescatore e di chiunque viva la costa e soprattutto, ricollocandomi a quello che dicevo prima, l'entroterra perché gli inquinamenti che noi rileviamo a mare talvolta, spesso anzi, non sono altro che riverberi di inquinamenti dell'entroterra che raggiungono ovviamente le nostre acque marine. Grazie anche per il lavoro che fate quotidianamente. Grazie, grazie a voi e direi una buona estate a tutti in un mare e in una costa che merita la bandiera blu. Grazie a tutti. Grazie a tutti per manifestare la gratitudine verso il sindaco che ci ha tenuto ad invitare l'agenzia in quanto l'agenzia svolge quotidianamente un'attività di prevenzione sul territorio con un approccio di tipo integrato, nel senso che si fanno controlli sui fiumi, sulle acque di scarico, sui rifiuti, sui siti contaminati e tutta questa attività poi concorre al raggiungimento degli obiettivi così importanti per il nostro territorio. Sì, un importante riconoscimento per la città di Tortoreto. Questo è il venticesimo consecutivo, quindi a dimostrazione che in questa città c'è una particolare attenzione all'ambiente e alla qualità della vita. La regione è vicina alle nostre cittadine anche attraverso interventi mirati, diretti, come per esempio il finanziamento dei depuratori e i contributi per la realizzazione delle piste ciclabili. È chiaro che questa bandiera si raggiunge ad altri riconoscimenti che questo comune ha ottenuto, come la bandiera gialla e la bandiera pediatrica, per far vedere la particolare attenzione che questa amministrazione ha nei confronti dei cittadini e dei bimbi in particolare. Grazie a tutti.